Facciamoci sentire, e sono partiti fortissimi Fuglio Cuscini, alla vita della macchina dell'impresa Edelipo Giambi, Alessio e Riccardo, grazie a tutti i capoletti numero due, eccola Grande curva, Riccardo, grande curva E se la giocano ragazzi, in visione, qui siamo in 2-2 Se la giocano, la regola Qui in Spagna ha aperto Grande Riccardo, grande curva, la curva Salutando la grande Riccardo E' in testa E' in testa Per qualche meglio con il testa E' in testa E' in testa E mi sa tanto che ci sia un problema Mi sa tanto che ci sia una macchina Eh sì, eh sì, eh sì Probabilmente si è rotto il cambio E quindi vince l'uno contro l'uno Riccardo Bracciarini Andremo Bracciarini Con la macchina numero 10 Da 7 ore 10 Stamattina Stava fortissimo poi E' caduto il motore in terra E ora c'è l'allegato con il film di ferro E' un errore E' un errore E' un errore E' un errore E a lei ha fatto più un errore Perché La pista molto tecnica L'abbiamo detto prima Le due equipi sbagli E' un po' così E' un po' così Un po' così Un navigatore Sul serio Un po' così E' un po' così Adesso A fare il pilota Un po' così Adesso Andrea C'è un pilota molto aggressivo Ma Ha fatto un errore Che Gli è costato E l'ho costato Tanti Secondo Dito E' un po' così doğru Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono molto schermate, è tutto a posto ragazzi. Facciamo gli applausi, vediamo tutti il sospiro di servizio perché queste cose noi, nonostante lo spettacolo, non le vorremmo mai vedere. Però le macchine sono molto molto protette. Ecco qua, sono dei due sali. Grazie. Stamattina ha fatto veramente bene qualifica. Grazie. 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 Vivano mi sa tanto che vanno a vincere questa gara, perché è veramente esaurato. Mamma mia che punto di vista! Spettacolo, spettacolo veramente! Stanno vincendo la gara, stanno vincendo la gara, stanno vincendo la gara! Facciamo il spettino, facciamo il profondo! Buonanotte per la participazione! E' vero! Buonanotte per tutti! Mamma mia che salve! Mamma mia che salve! Buonanotte! 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 Buonanotte per la gara di questa gara, questa è un spettacolo! E' un spettacolo semifricale! è uno spettacolo ancora un giro ancora un giro di nuovo fantastico ancora un piccolo di Giancarlo e vince Giancarlo e vince Giancarlo e vince bravo il Giorgio il 18 è il campione il 14 dell'insegnamento della giunta grande gara grande gara grande anche la gara di Immano bravo anche lui ci sono stati rapportamenti ci sono stato un grande spettacolo come tutti gli anni qui al Bazzino e noi dobbiamo rilegarsi a tutti questi ragazzi che si sono sacrificati tantissimo per fare questa matica grazie